La donna della tv è morta e il bambino è stato realizzato. Mi amava. Vieni da me, tesoro. Cosa fai nella mia casa? Ehi, non correrai via. Veloce, in bagno. No, no, non così in fretta. Una macchina, cosa? Qualcuno aiuti. No, sto lasciando questa casa. Muori. Quindi l'hai uccisa tu? Aspetta, aspetta, è morto. Schibidi. No, sono saltato fuori dal suo water. È ora di fare la cacca. Va bene, ma chi sono queste persone? I miei fratelli. La voce dell'assassino. E ora confrontiamo le vostre voci. Bene, e il prossimo? Tu sei a posto. Il prossimo. Non sei un assassino. Il prossimo. Non sei un assassino. Il prossimo. Non un assassino. Questo sembra sospetto. È esattamente la stessa voce. Devo eliminarti. Aspetta, hai ucciso la donna della TV? Era innamorato di lei, ma poi è arrivato TVMA. Oh my God! Litigavo spesso con lui. E poi l'ha chiusa in una gabbia. Per favore, fammi uscire. Ti salverò, amore mio. Potresti uccidere anche lei. Aspetta. No, lui è morto. Cos'è questo suono? Mi sono innamorato di lei e la nutrivo con frullati. Oh mio Dio, è così carina. M. Uno squat e grimace. Per favore. Ecco qua. Oh mamma, è così buono. Dammene di più. Prendi questo. Così buono. Dammene di più. Uno. Va bene. Dammene di più. Non posso. Quindi muori. No. Oh mio Dio. Allora, grimace, l'hai uccisa? No, non l'ho fatto. Aspetta, cos'è? Hai ucciso anche la donna della TV come lui? Non. L'ho baciata. Cosa ti sta succedendo? Parassita, esci da qui. L'ho fatto io. Forse hai ucciso la donna della TV. Ho amato la donna della TV. Non tornare mai più. Aspettate ragazzi. Chi è questo? Hai ucciso la donna della TV? Lei mi ha bandito da casa sua. Wow, questa casa è fantastica. Voglio entrare. Che diavolo è questo? Mi chiedo cosa ci sia dentro. Oh mio Dio. Aspetta. Devo usare il bagno. Veloce. Me ne vado. Cosa fai nella mia casa? Stai per essere bandito. Bru, perché? Perché sono un water skibidi? Creerò la mia casa e ti bandirò anch'io. Il giorno dopo. La mia casa è pronta. È così bella. Posso entrare? Mai. Sei bandito. Ho bisogno di imbrogliare. Ehi, sono il tuo amico. Fammi entrare. Entra. Che ne pensi? Noioso. Cosa? Va bene. La tua vita è tornata e lei è morta. Sospetto. Viene a berla. Lo voglio. Mi sento così. Oh, perché sono blu. Bene. Mai ucciso la donna della TV? L'ha bevuta e si è potenziata. Oh mamma. È così gustoso. Oh no. Aspetta. Chi è questo? E io un cesso glicciato. No. Perché? Volevo stare con lei. Aspetta. Che cos'è questo? Non. Ho bisogno di entrare in questo modo. Chi ha ucciso il mio amore? Non eri tu. No. Ero con lei. So chi è il colpevole. Era il glitch di Spikerman. Cos'è successo? L'ha appena colpito. No. Non troverà mai il vero me. Oh mio Dio. Ok ragazzi. Ora disegnate voi stessi. Hai finito. Un oratore di cacca. Grimace dell'oratore. Wow giga chad. Sei una donna? Va bene. Verde. Uomo TV. Aspetta. Cos'è questo fratello? Morire. E ora muori. Bene. Quindi ora. Mostra la tua faccia per prima. Oh mio Dio. Il prossimo. Una ragazza. Questo è sospetto. Il prossimo. Zombie. Successivo. Mickey Mouse. Uno torna sulla mia scarpa. Amico. Il prossimo. Il ragazzo del KFC. Il prossimo. L'uomo mano. È pazzesco. E il prossimo. L'uomo telefono. Va bene l'ultimo. Oh no. No. È troppo. È il water skibidi. Lo sapevo. Era il water skibidi. Voglio sentire le vostre voci. Hello. I'm real titan speaker man. Va bene. I'm real titan speaker man. But you're out. Va bene. Darn. You never stood it. Di nuovo il vero speaker man. Know how much you like to fight. Questo era un po' il sospetto. I love speaker woman. She's too pretty. Speakerman. TATOS THAN AMANASTA STOLE GOOD. Bene. E l'ultimo. Skibidi skibidi dub 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 dub. Yes yes skibidi dub 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 dub. Era il water skibidi. Muori. Così facile. Speakerman. Disegnami il tuo incidente. Vediamo il primo. Questo non sembra buono. Va bene. Il prossimo. Lei è una regina. Lei è su un cavallo. Lei è roba. Questo è il water skibidi. Ti piace davvero il water. Bru. Oh aspetta. Ora sei davvero un water. Muori. Solo 5 rimasti. Prossima categoria. Bacia questa donna della tv. Ok. Lasciami provare. Sono il prossimo. Sembra una figura. No. Sono speakerman. Non una figura. Il mio turno. Facciamolo. Sembra tvman ma posso approvarlo. Sono il quarto per davvero. Va bene. È reale. Sono il prossimo. Non sei al 100% un water skibidi. Sono l'ultimo. Quindi mamma mi si è skibidi. Mamma mi mi mi. O vediamo. Disgustoso. Sei un water. No. 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 Devo ucciderti adesso. Oh no. Ho ucciso tvman. Scusa. Oh no. Grimace e skibidi toilet. Ha attaccato l'ohaio alle 2 del mattino. Muori. E ora? Mostrami il tuo jump scare. Oh aspetta. Non era speakerman. Ma va bene. Il secondo. Ah la mia testa. E ora il terzo. Va bene. Ma era speakerman. Quindi il quarto. Era di nuovo speakerman. Quindi posso approvare di nuovo. Ma ora è il momento dell'ultimo. E vediamo. Skibidi cattivo cattivo jump scare. Lo sapevo. Drew. Lo sapevo. Era il water skibidi. Solo 4 rimasti. Quindi ora. Voglio vedere i vostri ricordi. Ora sei pronto. Bello ma per favore fammi uscire. Mai. Va bene. Il prossimo. Questo era piuttosto bello. E il terzo ricordo. Va bene. Erano ricordi di speakerman. Il prossimo. Erano ricordi del water skibidi. Muori. Cosa è questo? Muori. Oh no. Solo 3 rimasti. Fammi vedere. La tua casa è la prima. Va bene. Questa casa non è molto sospetta. La seconda. Una casa grimace. Non mi sento bene. E l'ultima. Vive nella fabbrica del water skibidi. Scusate. Ma devo eliminarvi. Nonna skibidi. Muori. Va bene. Quindi 2 rimasti. Quindi l'unica cosa ragionevole da fare è uccidere quest'uno. E ora è giusto. Quindi muori. E l'unico rimasto è questo. Hai ucciso la donna della tv. Oh non l'ho fatto. Ero davvero geloso a causa sua. Donna tv. Vuoi sposare l'uomo tv? Dai. D di sì. Sì. Certo. Lei è mia. Non puoi portarmi via mia moglie. No. Ha ucciso mio marito. No. Va bene. Quindi hai ucciso tv ma e non lei. Aspetta. Chi è questo? Cosa stai facendo su tv woman? Abbiamo creato dei mostri enormi. Ma tutti si sono innamorati di tv woman. I miei mostri erano pronti a... La la la. Oh mamma. Mi stai portando. Wow. Cosa stai facendo? Quindi l'hai uccisa davvero? No. È sopravvissuta. Aspetta. Le luci sono andate via. È morto. Aspetta. Ho sentito qualcuno. Oh mio dio. Mi ha fatto uno scherzo. Sono morto. Sono morto. Mi sta salvando. Lo ha scaricato. Grazie. Il cameraman. Ma perché il tuo sangue sta arrivando alla donna della tv? Non l'ho uccisa io. Aspetta. Perché sento qualcuno. Oh mio dio. Chi è questo? Oh. La stanno baciando. Polizia. Chiamate la polizia. Hai ucciso una donna della tv? Tutti l'amavano quindi volevamo vendicarci. Sei pronto per il cambiamento? No, mai. Non mi importa. Ti abbiamo reso brutto. Molto male. Chi è questo? Ha fatto la cacca su di me. Nanana. Oh no. Sta arrivando. Facciamo la cacca. Ho altro. Aspetta. Cosa è successo? È troppo. Sono sporco. Potresti essere tu. Non sono io. Ma scappa. L'hai uccisa. Non l'ho presa. No. Quindi se non sei stato tu allora. Cosa pensavo? Sei dei water. Non. Siamo umani nei bagni. Capoviene. Cosa è questo? Aspetta. Sento del beatbox. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Chi è questo tizio? Da freak boom. Hai ucciso la tua stessa creazione. No. Volevo mostrare le loro facce. È il tuo rivelazione ufficiale del viso. Oh mio Dio. Prima tu. Quindi sei ferito. Ora tu. Vediamo. Umme. Due teste. È pazzesco. Prossimo. Tv man. Oh mio Dio. Riven. Ora tu. Vediamo. Hulk. Ora il cameraman con la tuta bianca. Vediamo. Oh mio Dio. Wow. Ok. Nessun tv ma. Steave. È strano. Ora il grande cameraman. Ti ho creato. Quindi vediamo. Iron man. Sei fantastico. E ora il cameraman normale. Oh mio Dio. Baby. E tu. Uccello arrabbiato. Scuotimento. Scuotimento. E l'ultimo. Vediamo. Oh cos'è questo. Hai un volto strano. Ok. Quindi le loro facce sono state verificate. Oh quindi non li hai uccisi. Lui è morto. Oh no. Oh mio Dio mio marito. Chi sei? Ho creato il water skibi con lui. Penso che sia ora. Altoparlanti o testa da tv. Altoparlanti. Jetpack. Laser giallo o rosso. Rosso. Più altoparlanti. Telecamera o testa da speaker man. Testa da speaker man. Laser. Questo. Elettricità. Wow. Sono il prossimo. Telecamera gigante o telecamera. Telecamera gigante. Wow. Nucleo del cameraman o cacca. Cacca. Bru. Ora preferisco il nucleo del cameraman gigante. Wow. Jetpack del cameraman gigante. Wow. E tuta. Yoho. E martello. È fantastico. Siamo pronti papà. Vai all'asilo figlio. Ok papà. Vai via. Fermati. Cosa? Non smetterò. Oh mio Dio l'ho uccisa. Nu. Scappa. Quindi l'hai fatto. Rimani qui per sempre. Il cameraman di Titan è stato ucciso. Chi è il possibile sospettato? Ma che diavolo? Aspetta. L'hai attaccato. Aspetta. Ho sentito qualcuno. Nonno WC. Hai ucciso il cameraman di Titan? No. L'ho creato io. No. Aspetta. OMG. Cosa stavi facendo su di lui? Li ha mutati tutti. Aspetta. Chi è questo? OMG. Perché l'hai ucciso? Era cattivo con me. Meglio guardare dietro di te. Smettila di togliergli la maschera. Sono il suo creatore e avevo bisogno di vedere il suo volto. Ciao a tutti. Oggi vedrete i loro volti. Per favore non farlo. Non possono vedere la mia faccia. Io. Snello. Wow ora cameraman. Cosa? Ora titano cameraman. What is that? Ediamine. Relatore ora. Oh my god. Wow rispetto. Ora speakerman. What the hell? Um excuse me. Jenna. E ora l'uomo della tv. Cosa? Tempo per me. OMG sei malvagio. Camera man plunge. Perché hai ucciso tuo padre? Cosa c'entra il camera man di Titan? Aspetta. Ha mostrato il suo volto. Perché? Volevo solo vedere. Ehi tu. Perché? Ha aggiunto smorfia scossa alla mia flebo. Ah trolliamolo. Cosa stai facendo? E' o bua. Wow. Oh ora capisco. Tempo di vendetta. Donna speaker. Perché l'hai fatto? Ci ha rubato la cotta. Così l'ho uccisa. Aspetta. Chi è questa? Chi sei? E hai ucciso il cameraman di Titan? Così ha voluto dimostrare di non essere spaventato. Non ho paura di loro e lo dimostrerò. Mi spaventano i salti. A zoppo. Successivo. Non fa paura. Prossimo. Glicciato. Ora il quarto. Ancora non fa paura. Successivo. Ok. Prossimo. Facile. Il tuo turno. Cosa? E' Skibi G-Man. Non fa paura. E ultimo. Pensi di potermi spaventare? Ma l'hai ucciso tu? Non l'ho fatto io. L'ho costruito io. I miei mostri sono pronti. Grazie. Lei li sta distraendo. Spariamole. Ha facile. Aspettare. Sono morto. Interessante. Aspetta. Ho sentito parlare di bomba. Chi ha sganciato la bomba? Smorfia. Hai ucciso il cameraman di Titan? Li stavo trollando sul gioco del calamaro a bricce. Oh no. Quale dovrei scegliere? Ho un'idea. Grimace OMG scuotere. Facile. Il prossimo. Non rischiare di più. Sei sicuro? Oh my god. Wow. Ah. Ok. Ultimo salto. Ho la macchina fotografica. Ah. Solti. OMG era una bella trollata ma l'hai ucciso? Oh no. È morto. Aspetta. Chi è questo? Turna. OMG. Popcat so che la donna della tv ha eliminato il cameraman di Titan. Trovare lei reale per trovare l'assassino. Mostrami cosa c'è sotto il tuo costume. Non sospetto. Ok. Wow sei fatto d'oro. Cosa? Lei? OMG. What is that? What the... Non può essere reale. Successivo. OMG. Questo è sospetto. Il prossimo. Wow. Prana. Yes sir. Cosa è successo alla sua faccia? Ultimo. Skibi di Waterdy. Ora? Mostratemi i vostri ricordi più tristi, più felici e più oscuri. Prima tu. Prima il ricordo più triste. Oh mio dio. A pianto. L'intera casa è stata inondata di lacrime. Ora è il ricordo più spaventoso. Oh mio dio. È stata pugnalata e li ha pugnalati. E il ricordo più felice. Si stavano sposando. Non sospettoso. Secondo. Il primo. Il più triste. Oh mio dio. Il ricordo più spaventoso. OMG. Ha avuto figli con i water skibidi. E il più felice. Ha avuto un figlio con l'uomo della tv. Non sospetto. Ora tu. Il ricordo più triste. Oh no. Suo marito è morto. Oh mio dio. E il più felice. Stanno guardando il gabinetto di skibidi. È pazzesco. Aspetta. Questo skibidi è un parassita? Di nuovo non sospetto. Non è il tuo turno. Il ricordo più triste. Aspettare. Lei è felice qui. E tenevano in braccio l'uomo della tv. Ora è il più spaventoso. L'uomo della tv ne lancia dei coltelli. E il più felice. Oh no. Cos'è questo? Oh mio dio. Sembra così falso. Sei falso. Quindi muori. Oh mio dio. Cos'è questo? Muori. Ora tu. Il ricordo più triste. Cosa è successo qui? Ora il più spaventoso. Oh no. Stavano cercando di mangiarla. E il più felice. Oh mio dio. Voleva trasformarsi in una smorfia. Ora tocca a te. Il più triste. Che cos'è questo? Il più spaventoso. Hanno bevuto rifrullato della smorfia. Oh bello e sono morti. Il più felice. Oh no. Facevano la cacca sul water di Schibi. È disgustoso. Ma non è sospetto. Ora tu. Il più triste. Hanno iniziato a mangiarla. Ora il più spaventoso. Oh no. L'hanno picchiata. Il più divertente. Cos'è questo? Stavano facendo la cacca. Non è possibile. È disgustoso. Ora tocca a te. Triste ricordo. Sta piangendo. No. Oh no. L'hanno tagliata. È davvero brutto. E il più felice. Stava ridendo. Ah. Super cool. Non sei sospettoso. Ora tocca a te. L'ha tagliata a metà. Oh mio dio. Cosa è successo qui? Non lo so nemmeno io. E il più felice. Che diavolo? Perché ha così tanti figli. Ora tocca a te. Sembra davvero strana. Oh no. Stava cercando di aggredirla. È così triste. Il prossimo. È stata attaccata dal water. Oh no. È così brutto. E la più felice. Non lo commenterò. Ok. Allora tocca a te. È stata attaccata dai bagni schibidi. E ha fatto la cacca in tv. Che diamine. E l'ultimo. Ha distrutto la tv donna. Aspetta. Cosa? È il gabinetto di nonno schibidi. Non è lei. Dobbiamo eliminarla. E ora. Morire ora. Ok. Ora voglio vedere le vostre facce dopo le operazioni. Wow wow. Bene. Cosa è questo? Vedo che questa operazione non è andata bene. Buono. Quarto. Quinto. Sesto. C'è che cosa? Il tuo turno. Wow. Bello. Buono. Cosa è successo alla sua testa o ng? Oh my god. Zombie. Che cos'è questo? Coniglietto. Eh. Schibidi water? No. Ora voglio vedere i nostri ricordi. Vediamo. Era una speaker woman ma va bene. È il tuo turno. Non sospetto per ora. Tocca a te. Ok. Il tuo turno. Ok. Tu. Non sospetto. Il tuo turno. Sospettoso ma in modo diverso. Wow wow. È strano. Ora tu. Oh. Bene. Tu. Ultra sospettoso. Strano. allarme. Ultimo. È falso. Morire. Ok, ora voglio vedere cosa c'è dentro la tua casa. Prima. Cosa? Lei lo ha pugnalato, quindi potrebbe essere falso. Il tuo turno. Cosa? L'hanno aggredita in casa sua. Terzo. Oh no. Questo può essere vero. Quarto. Anche questo può essere reale. Allarme Silt. Ora lei. Si è seduta sul gabinetto di Skibi. Blu. Due a sinistra. Le l'ha fatto vedere e hanno tirato lo sciacquone. L'ultimo. Cosa? Nessuno è falso per niente. Ok, ora voglio vedere i tuoi baci. Reale. Successivo. Reale. Sospettoso. Prossimo. Ora lei. Vol. Strano. Lei. Vero wow. Ultimo bacio. Aspetta. Era il bagno di Skibi. Lo sapevo. Ok, ora voglio vedere il tuo riflesso in quegli specchi. Prima. Lo stesso. Tu. Buono. Sospettoso. Buono. Ti assomiglia. Cosa? Non c'è nessun cameraman. Oh, aspetta. In realtà c'è. Lol. Buono. Bello. Aspetta. Bagno Skibi. Non posso ancora eliminarti. Ok, quindi ora. La donna della tv era un buon guidatore. Quindi guida su questa smorfia scossa per dimostrarlo. Facile. Tocca a me allora. Proviamo. Un metro. Due metri. Facile. Sono così veloce. Sto salendo. 15 metri. È difficile. No? Sono il prossimo. Entriamo nel vivo. 6 metri. 7 metri. 11 metri. 14 metri. È difficile ma lo sto facendo. Aspetta. Andiamo. Un metro. Due metri. Andiamo. 25 metri. 30 metri. Penso che ce la farò. Guarda quanto siamo alti. Sto rallentando. E questo non va bene. Ma ci sono quasi. Andiamo. Sì. È l'ultimo. Oh no. Non posso. Sta succedendo qualcosa. Sì. Ce l'ho fatta. Sono l'ultimo. Spero di farcela. Non ce l'ho fatta. Eri il peggiore. Quindi muori. Lo sapevo. Lasciami provare. È il mio turno. La batterò. Facile. È il mio momento. Andiamo. Sono il prossimo. Andiamo. Oh my gosh. Bel colpo. Vediamo un po'. Non male. Sono l'ultimo. Andiamo. Oh mio. No. Quindi prendi e appugni questo vecchio. Ne hai distrutto solo uno. Quindi muori. Mostrami i tuoi jumpscares. Prima. Vero. Secondo. Buono. Terzo. Ah. Real. Due a sinistra. E ultimo. Ah. Falso. Falso. Molto. Lo sapevo. Quindi ne rimangono quattro. Ok. Ora è il momento della gara di salto. Sono il primo. Facile. Sono secondo. No. Volevo essere il più grande. Io sono il prossimo. Wow. Wow. No. Quasi in cima. Sono l'ultimo. Non posso perdere. Sei stato il peggiore. Quindi muori. Facile. Ne rimasti. Quindi mostratemi le vostre voci. I am a real TV woman. I love TV man. Vero. Secondo. E ultima. Falso. Ah. Lo sapevo. Ultimi due. Devo indovinare. Per favore non uccidermi Schibidi. Cosa? Non è quello che direbbe una donna della TV. Lo sapevo. Morire. Quindi sei tu quello vero. Resta qui per sempre. Per migliorare. Ottieni 10 dollari e compra questo abito. 10 dollari. Malo. Io. Aspetta. È il fratello. Dove sono? Uno di loro è tuo padre. Se vuoi migliorare con un abito migliore e poi con un abito migliore e il miglior abito. Trova tuo padre vero. Togliamoci la maschera. Non mio padre. Il secondo. Cosa? Il terzo. Ah. Aspetta. È un bambino. Ah. Questa cosa. No. Ragazzo. E? E spera. Genna. No. Ora uccidila. Sono illuminato. Era Genna. Ora posso comprarmi un aggiornamento. Wow. E ora? Mostrami perché mi hai lasciato quando ero giovane. Sono andato a comprare il latte. Non è possibile. Mi hai lasciato per un latte. Avevo 120 figli e 10 mogli. Quindi ti ho dimenticato. Ho visto il tuo volto e ti ho lasciato. Cosa? Sono davvero così brutta? Sai. Mio padre non mi farebbe mai una cosa del genere. Oh. Lo so. Era un tipo strano. Uccidiamo. Sei andato al bagno e non sei mai tornato. Ti hanno rapito. Mi hanno rubato a mia madre. Oh. Potrebbe essere vero. Ti ho lasciato con tua madre per una bellissima donna speaker. Tu muori. Oratore. Mi sento come un invito a un nuovo aggiornamento. Wow. Sono ricco ed è una figata. Ti ho lasciato perché ho sposato una toilette schibidi. Cosa? Mio padre non l'ha fatto. E spera. Ti ho mostrato il mio vero volto e sei scappato. Oh mio Dio. Facevi meme non divertenti. Oh 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 oh. That is so fire. Mi facevi paura. Ti ho lasciato perché ti ho dato uno scuotimento di grimace. Non. Numero 13. Ti ho lasciato nelle condutture. L'ultimo. Ti ho lasciato perché sto uccidendo. Questo è quello che avrebbe fatto mio padre. Quindi ora, mio padre era un buon cantante. Mostrami le tue voci papà. Successivo. Mi piace. Posso lasciarti. Bene. Mi piace. Questo è ciò che mio padre sapeva cantare. Numero 10. Questo è sospetto. Ho bisogno di ucciderti. Oh. È la donna della tv. E ora puoi comprarmi un upgrade. Yo. Questo è illuminato. Va bene. La prossima. Mi piace questa voce. Ultimi due. Oh. Questo è illuminato. E l'ultima. Vediamo. Oh. È così bello. Va bene. Ora mostrami cosa c'è nella tua testa. Come? Ah. Perché la mia testa si sta ingrandendo? Ah. Smettila. Oh. Oh. Mi ha sparato con il laser. Andiamo alla prossima. Oh mio. Il mamma ci ha lasciati. Mio dio. È così triste. Non credo che sia vero. Terzo. Questo era un po' sospetto. Quindi entriamo. Oh non. Alla memoria di quando sono morto. Quarto. Oh no. Mi ha dato un calcio e sta con la ragazza del cesso schibidi. Quinto. Entriamo. Mio padre è entrato nella grimace e sta morendo. E la prossima tv. Oh non. Mio padre mi stava sparando mentre facevo la cacca. Quello non è mio padre. Ti sto insospettendo. E ora il prossimo. Ah. Mio padre ha creato una grimace tremolante. È così falso ragazzi. Sto dando anche te al sospetto. Tre di loro sono rimasti. Quindi ora. Prendiamone un altro. Mi ricordo questo. Ho allagato l'intera casa con il grimace shake. Il prossimo. Mio padre mi ha tirato lo sciacquone. Oh mio dio. È così strano. Prossimo. No. Mio padre ha usato la grimace per attaccarmi. Questo è male. Ti sto illuminando. Aspetta. Grimace. Oh no. È stata una grimace per tutto il tempo. Mio dio. Ed è ora di aggiornarsi. Oh. Sto così bene. Allora. Mio padre aveva una cotta per la donna della tv. Quindi disegna la tua cotta. Vediamo. Va bene. Buono. Buono. Mi piace. Bello provare buono. Oh. Questo è sospetto. Va bene. Mia madre. Perché c'è un gabinetto di Skibi di accanto a lei? E l'ultima. Skibi di Vucci non ha mai baciato mia madre. Oh mio dio. Stai morendo in questo momento. Stai morendo in questo momento. Bene. Allora ora. Aggiornatevi. Mostratemi le vostre vere facce. Bene. Per prima cosa. Quello non è mio padre. Strano tipo. Questo potrebbe essere mio padre. Il prossimo. Will Smith. Wow. Vecchia foto. Shrek. No. Sei sospetto. La prossima. Va bene. Va bene. Aspetta. Cosa? Mio padre non è una donna. Sei stata eliminata. Ya. Donna della tv. Lo sapevo. Morirà. Bene. Ora vediamo. Va bene. Il ragazzo finisce. Ancora Shrek. Oh mio dio. Ragazzi. Ma posso ancora migliorare. Quindi. Yo. E poi posso volare. Ora. Mio padre può saltare molto in alto. Quindi salta. Lo farò. Va bene. Oh. Oh mio dio. No. 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 Sono adesso. Vediamo. Spero di farlo meglio. Va bene. Va bene. Bello. No. No. Mio dio. Perdenti. Guardate questo. Oh mio dio. Oh mio dio. Io sono il prossimo. Sono bloccato. Sono il prossimo. Oh mio dio. Sono il migliore. Oh mio. Bene. Ora ti eliminiamo. I speaker man. Va bene. E io sono l'uomo d'oro della tv. Andiamo. E ho un laser d'oro. Wow. Bene. Quindi ora. Uomo tv. Mostratemi i vostri corpi. Oh. Pagliaccio. Non credo che mio padre fosse un pagliaccio. Ma forse. Chi lo sa. Bene. Ora è il prossimo. Vediamo la tua faccia. Vediamo la tua faccia. Va bene. Allora vediamo il tuo corpo. Lui è Shrek. Che diamine. Oh mio dio. Il prossimo è Goblin. Testa di Goblin e torso di Goblin? Cosa? Cos'è l'intero corpo? È così piccolo. Il prossimo. Zolfius. Zolfius. Conosco questo tizio da Garten of Bambam. Fester? Oh mio dio. Non lo conoscevo. Va bene. Questo potrebbe essere sospetto perché mio padre non è un cane al 100%. È il momento del prossimo. Un pesce. Oh mio dio. Questo è falso. Figura. Va bene. È un po' sospetto. Oh. Aspetta. Gabinetto Schibidi. Uccidi subito questa persona. Oh. Sì. Mi sento aggiornato. Sì. Signore. Io sembro così illuminato. Ora. Mio padre ha una moglie donna tv. Così la donna tv li bacia. Il primo. Oh. Cos'è questa reazione? Va bene. Controlliamo la tua reazione. Oh. Cosa è successo per cambiare in una grimace? Va bene. Il terzo. Bene. Questo è strano. Bene. Quarto. Oh. Bene. Il suo cuore ha iniziato a battere. E il prossimo. Va bene. Questo è strano. Va bene. Si è trasformato in un vero uomo. Bene. Il prossimo. È morto. Bene. Questo è davvero sospetto. E l'ultimo. Grimace. Va bene. Uccidi subito questa persona. Bene. E mi sento aggiornato. Mi piace. Ora mio padre non ha mai riso alle mie battute. Così ora. Cerco di farvi ridere. Peaches. 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 Hanno riso. La prossima. Check out my new shoes. They're the brand new. Nike kicks. Oh. That is so fire. Hanno riso. E ora. Scriviti bob 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 bob. Pia sia. Scriviti doble dip dip. Scriviti doble dip dip. Ragazzi. Vai lì. Un'altra ultima che stai ottenendo punti. Ora voglio vedere la vostra reazione alla grima cescossa. Fatto. Il prossimo. Vediamo. Bene. Non sospetto. Il prossimo. Bene. E il quarto. Oh. Bene. Normale. E vediamo. Il prossimo è abbastanza normale. Il prossimo. Va bene. Questo lo posso contare. Va bene. Vedi questo. Ah. Va bene. Questo era sospetto. E l'ultimo? Ai. Di rimace. Va bene. Questo era falso al 100%. Morire. Oh. Guarda il mio aggiornamento. Guarda come sono illuminato. Quindi. La prossima categoria. Mio padre era davvero veloce. Corriamo. Iniziamo. Andiamo. Lasciami spawnare una macchina. Ah. È qui. Ragazzi. Ehi. Questo è barare. Smettila. Fratello. Oh mio. Non c'erano leggi. Sto barando anch'io. Ah. Un cavallo. Vittoria facile. Ragazzi. Ah. Ah. Ehi. Smettila di imbrogliare fratello. Non sono ammessi cavalli. Aspetta. C'è qualcuno all'inizio. Va bene. Posso ucciderti. Quindi. Nella prossima categoria. Mostratemi i vostri incubi. Si è fatto la pipì addosso. Va bene. La prossima. Oh mio dio. No. È morto e la sua famiglia sta piangendo. Il prossimo. È stato attaccato da un gabinetto di schibidi. Ed è un incubo. Il prossimo. No. Lo schibidi water sta facendo la cacca addosso. Aspetta. Mio padre non avrebbe mai avuto un incubo del genere. Va bene. No. È morto. È stato triste. Va bene. E l'ultimo. Va bene. Quindi sto uccidendo questo. Ciao ciao. Ora è il momento dell'aggiornamento. Che cos'è questo? Ora distruggi questo muro e vai per primo. Eh. Va bene. Lasciami provare. Secondo. Pugno. Solo quattro. Blue. Il prossimo. Attacco. Oh mio dio ragazzi. E' come un domino. Due rimasti. Quindi può o no. Ne ha distrutto solo uno. Questo è un male per te. Fratello. Il prossimo. Pugno. Facciamolo. Ah. Wow tutto. Mi dispiace. Ma sei stato eliminato per aver distrutto un solo muro. Bene. La prossima categoria è. Voglio sentire il tuo urlo. Vediamo. Il prossimo. Il prossimo. Mettiamo giù questo. Che diamine. Bene. Il prossimo. Normale. Il prossimo. E il suo urlo è normale. Non posso eliminare nessuno. Mostrami i tuoi ricordi. Vediamo. Va bene. Era reale. Vediamo il secondo. Wow. Va bene. Questo era un ricordo di mio padre. Così posso approvarlo. Vediamo il terzo. E' un bene. E' un ultimo. Vediamo. Va bene. Non sospetto. Quindi nessuno verrà eliminato. Ma ora dovete darmi un regalo per il mio compleanno. Cosa avete per me? Va bene. Il primo. Un fiore. Va bene. Il secondo. Toilette schibidi. Che cavolo. Il terzo. Vediamo. O una donna in tv. Va bene. E l'ultimo. O un cane. Yo sta cantando una canzone sulla Toilette Schibidi. Mi dispiace. Ma devo eliminarvi. Oh. Lo sapevo. Camera man. Non uomo della tv. Muori. E sento un miglioramento. Yo. Sembro così figo. Quindi ora voglio vedere cosa avete nella bocca. Va bene. Il primo. Oh. Ha delle Toilette Schibidi. In realtà. Non è sospetto. Va bene. Il secondo. Oh mio dio. Un hamburger Schibidi Toilette. Andiamo dentro. Squati il compleanno. Grimace. Ma mio padre non piace il milkshake Grimace. Vai via. Amico. Va bene. Rimangono solo due. Quindi ora facciamo una gara di braccio di ferro. E scopriamo chi è il vero. Oh mio dio. Oh. Cosa sta succedendo. Oh. L'ha colpito. L'ha schiaffeggiato. Quindi ho trovato mio padre vero. Sì. Aspetta. Wow. Sono migliorato. Va bene. Grazie per aver guardato. Ci vediamo nel prossimo episodio. Quale moglie è vera? Togliamo loro le maschere e vediamo. Il prossimo. Vol. Ah. Quarto. What the hell? Quinto. Potrebbe essere lei. Potrebbe essere attaccata. Settimo. Buono. Scheletro. Jenna. Che cos'è questo? Reale. Smorfia cosa? Strano. Glicciato. Morirai. Ora mostrami cosa c'è nella tua testa. Oh no. Ti stavano trattenendo. Ora tocca a te. Ha legato te e la donna della TV. Non ti sto eliminando. Ora qui. Più più. Oh no. Lei ha iniziato a cantare e loro si sono sciacquati da soli. Questo potrebbe essere un vero ricordo. Ora il quinto. Andiamo. Non l'hai aiutato. Questo è davvero sospetto. Ora tu. Umme cos'è questo? Cattivo. Ora tu. Aspetta cosa? C'è uno skibi di water sotto di esso. Ora muori. Era il cameraman. Vai. OMG è diventata una testa multipla. Mi chiedo se sia reale. È il tuo turno. La donna della TV e la donna dell'altoparlante hanno mostrato i loro veri volti. Il prossimo. Ok. Ora sono in una fabbrica che viene creata. Penso che sia reale. È il prossimo. E hanno mostrato di nuovo i loro volti. Aspetta. Non è mia moglie. Ultra sospettoso. Due a sinistra così a fuoco pieno. OMG la seconda testa della donna parlante esce fuori. Un po' sospetto. Vediamo. Questo non è sospetto. Ok. Ora fammi vedere come si combattono i bagni schibidi. Wow questo è reale. Prossimo. Vero wow. Terzo. Che cos'era? Sospettoso. Quarto. OMG mi hai chiamato e li ho distrutti. Quinto. Oh questo è sospetto. Tu. Era una donna TV. Quindi è molto sospetto. Il tuo turno. Può essere reale. Tre a sinistra. Due a sinistra. O l'ultimo. OMG era il gabinetto del nonno. Attacco. Morire. Lo sapevo. Ok. Ora disegna la tua cotta. Vediamo. Tutti buoni. Scheletro. Su una barca. Nel gabinetto. Sospetto. In auto. Ok. E no. È il bagno di Gesù. Non la donna che parla. Fit muore. Ora mostrami il tuo bacio. Non sospetto. Prossimo. È come mia moglie. Prossimo. Banco banco banco. Quinto. Ora tu. Non posso più farlo. È così disgustoso. Schibi di fallo. O M G. Non sospetto. Il prossimo. Due a sinistra. Molto sospetto. Questo è falso. Eliminazione ora. Da Frick B. Ti amo davvero. Quindi niente uccisioni. Ora mostrami la tua canzone. Non male. La prossima. È così che canterebbe. Tu. Non sospettare. Non sospettare. Tu. Fratello è reale. Il tuo turno. Strano. Due a sinistra. Ok. Questa è la canzone di Schibidi. Morire. Ora la speaker woman può saltare molto in alto. Quindi vai. Sei stato il peggiore. Fionda andare. Wow. Usiamo il trampolino. Incredibile. Andiamo a parlare di un uomo di parola. Cattivo. Ora io. Buono. Facciamolo. Bello. Facciamolo per la gloria. Vi distruggerò tutti. No. Per favore no. Devo batterla. Sono l'ultimo. Andiamo. Evviva. Quindi muori. Ok. Ora voglio vedere le vostre facce dopo l'operazione. Vediamone. Cosa? Reale. Secondo. Che cos'è questo? Palla. Terzo. Samara Morgan. Quarto. OMG. Reale. Cosa? Questa è una maschera. Quindi è sospetto. Il tuo turno. Maglialino. Il tuo turno. Buono. Cosa? La cameraman. Buono. E il strano. E ultimo. Ah. Schibi di gabinetto. Morire. Ah. Guarda quanti ne abbiamo eliminati. Ora mostrami il tuo peggior incubo. Fratello, questo è così cringe. Cameraman. Smettetela. Reale. Così il prossimo. La cameraman ha avuto dei figli schibidi. Cosa? Sospettoso. Successivo. Umme hanno fatto una grande rivelazione del viso. Sorprendente. Quarto. OMG è quasi esploso. E il così strano. Sospettoso. E il prossimo. OMG. Schibi di WC più testa era molto male. Lasciata. OMG. Ragazza sospetta. Successivo. Oh, mi ricordo questa storia. Smorfia scossa stava facendo la cacca a Smorfia. Non è affatto sospetto. Il tuo turno. OMG è sdraiato morto. È triste e un vero incubo. Ok, tocca a te. Oh mio Dio. Le stava sparando mentre lei era legata al pavimento. Triste. Due a sinistra. Speakerman stava baciando la donna della TV. Non sospetto. E l'ultimo. Wow, questo non è il suo incubo. Chi è questo? È tempo di eliminazione. Mi dispiace. Ora voglio vedere la tua reazione alla Smorfia scossa. OMG bevilo. Non mi sento bene. Questa reazione non è sospetta. Bevilo ragazza. OMG cosa? Sembra un amico giallo. Terzo. Vai. Ed umile piedi umano. Quarto. Amico ciano. Cosa? Tu. Bevilo. Wow, cos'è questo? Bevilo donna speaker. OMG. Due rimasti. Vai. OMG. Che cos'è questo? E l'ultimo. Vai. Nessuno di loro è sospetto. Non ne sono rimasti molti. Quindi ora mostratemi i vostri corpi. Cosa? Oh no. G-man. Muori. Muori. OMG il prossimo. Shrek. Terzo. Scheletro ok. Quarto. Cosa? Quinto. Umme questo è piuttosto sospetto. Il prossimo. Questo può essere reale. Il tuo turno. OMG. Il tuo turno. cameraman. E ultimo. Cosa? Parassita del gabinetto Schibidi. Morire. Ok. Ora mostrami le animazioni con te. Non eri tu. Ero io. Ma ok. Il secondo. Umme ok. Tu. OMG l'hai distrutto. Wow. Quarto. Wow questo è così buono. Quinto. Questa non è la speaker woman quindi muori. Bene. Ora voglio vedere le vostre versioni aggiornate. Quindi. Nonno fallo. Speaker woman potenziata. E fantastico. Tu. OMG cos'è questo? Sembra sospetto. Terzo. OMG grande uomo. Ora lei. Cosa? Questa mutazione è strana. Il suo turno. Ragno parlante. Prossimo. Buono. Vol. Oratore d'oro. E ultimo. Cosa? Gabinetto schibidi. Morire. Ora la speaker woman è stata veloce quindi facciamo la gara. Vai. Oh no. Sono l'ultimo. Imbrogliamoci. Facile. Dai. Devo imbrogliare anch'io. Sto volando. OMG stanno finendo la gara. E tu sei l'ultimo. 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 Ora la speaker woman ha una voce forte. Quindi rompi più bicchieri che puoi. Bel colpo. Ora tu. Andiamo. Wow. Bel colpo. Tu. Il migliore. Forza speaker woman. Wow. Bel colpo. Stavo scherzando. Era brutto. Oh my god. L'ultimo. Buono. Così hai fatto il peggio e sei morto. Camera man lo sapevo. Quindi ora voglio vedere le tue situazioni più brutte. Zuerst. Prima. Questo è davvero da brividi. Nessuno voleva baciarti. La seconda. Era in prigione e la stavano maltrattando. Terzo. Bagni schibidi. Quarto. Quinto. Vediamo. Che diavolo è questo? Rabbrividire. E ultimo. Si è seduta sul water di schibidi. Nessuno di voi è falso. Quindi ora. Ora voglio sentire il tuo urlo. Non ho intenzione di urlare. Ah. Sei sicuro? L'urlo di una donna. Così reale. Tu. Reale. Successivo. Reale. Tu. Che è la speaker woman? E ultimo. Non è un urlo. È la canzone di schibidi. Lo sapevo. Speaker woman oggi è il mio compleanno quindi per favore fatemi dei bei regali. Prima di tutto vediamo. Wow cool. Secondo. Che cos'è questo? Ah. Terzo. Gabinetto difettoso. Oh no. Ok e ultimo. Ah c'è Sobazzonu. Ora mostratemi i vostri jumpscares. Secondo. Terzo. Era il cesso di schibidi. Ok ora canta di nuovo una canzone. Baby speaker woman. Schibidi water. Tu. Speaker woman. E per ultimo. Successo schibidi. Quindi sei reale. Si. OMG. Siamo. Siamo valutati solo un dollaro. Oh amiamo nostra figlia. E io. Genitori. Perché sono così odiato? Ragazzi se volete fare l'upgrade superate questa scuola. Vediamote allora. È stato creato nella tua letta. Questo è buono. Era controllato da un essere umano reale. Questo non è male. Prossima azione. Ha mostrato tutti i volti degli studenti senza il loro permesso. Aspetta. Cosa? Ah ti ho legato e adesso vediamo le vostre facce. Cine operatore. Albert. Oratore. OMG Dracula. Oratore rosso. Mr. Beast. Uomo titano della tv. Cine operatore titano. Gregorio. Ha dovuto cantare una canzone per entrare nella fabbrica di schibidi. Skibidi. 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 Stop that. Let me show you how it's done. Skibidi. 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 Stava registrando la donna della tv. Ah. Cos'è questo? Eh eh buai. Per me. Sei bravo. Ho fatto l'upgrade. Sono il prossimo. Ha combattuto in canzoni con le toilette Skibidi. Buono. Ha usato gli altoparlanti per far cantare tutti a Brookhaven. Nanananana. Ciao ragazzi. E' arrivato alla fabbrica di toilette Skibidi sotto copertura e le ha distrutte tutte. Posso entrare? Canta una canzone. Buona canzone. Andiamo. Anch'io voglio entrare. Skibidi. Non skibidi. Ho bisogno di un travestimento. Ora tu. Buono. Ora tu. Andiamo. Il tuo turno. papi 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 papi. Papi papi papi. Grazie. Ora questo strano. Sibiumet sibiume sibiji. Questo non è un Skibidi toilette. Oh no Il mio turno Wow, incredibile Il tuo turno Va bene, non c'è problema Buono, il mio turno Buono, ora tu Bella canzone OMG, sono così stressato Il tuo turno Sospetto ma va bene Yan, distruggiamo la fabbrica Cosa? Sei stato bravo, per gli oratori Yan, wow, sembri figo Ora tu, donna della tv Stava combattendo con tvma e cantando Mane, tutti l'amavano e le facevano regali Non è male Stava distruggendo le toilette schibidi con il suo sguardo La 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 Morirai Io? È così carina Giusto Ha mostrato il suo volto e quello delle altre ragazze nella vita reale OMG, lui è così bello Sceglierà me, non te Apportiamo la mia ragazza al ballo Prima oratrice ragazza rossa Vediamo la tua faccia UMH Cine operatrice UMH Sono bella Sì, certo Tu Meglio di una brutta donna della tv Vediamo Ah, è l'ultimo Bellissima, vieni qui Sei yae Grazie Wow, ho fatto l'upgrade Sono migliore di te Stupido fratello È il mio turno Non, non, è il mio turno Prima di diventare una toilette, Skibidi stava cantando la canzone Skibidi Buono e triste È stato cambiato perché è stato risciacquato Non male No, non, 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 non Si, hai sentito Oops enza Non, non, non Non Sono reale Mangata Non Locale Ma forma Aveva le gambe quando lo tiravi fu- Questo è inquietante e brutto Prendi Eppe per quello che hai fatto Sono stato declassato Finalmente il mio momento Il suo cane è stato mangiato dalla toilette Schibidi Stabilitando il mondo Ma è vivo quindi non preoccupatevi E' stato ucciso ma poi è mutato Tutto con schibi di toilette in FNF Non è male La donna della tv era innamorata di lui Ma dopo che si è tolto la maschera Ha rotto E' il momento di mostrarmi il tuo volto Nessun problema ragazza Prendi AE Wow, sembro migliore Ora ragazzi, chi salterà più in alto Avrà un miglioramento migliore Proviamoci allora Oh, oh my god Bru, cambia solo la testa Il mio turno Per denti Ce l'ho fatta Wow, sembro nostra madre E' il mio turno Diventiamo i migliori Oh, mamma Aggiornamento Il mio turno Spero nel meglio Cos'è questo? E' il mio turno dopo Sono arrabbiato Il mio turno A Wow, perfetto Quindi sono l'ultimo Ho così paura Wow, miglioramento Wow, ora ragazzi Per migliorare battete Skibi Toilet nel salto Ah, non mi batterai mai Vedremo Miglioramento Wow, ora tocca a me Woof Ah, non mi batterai mai Oh, oh my god Questo è fantastico Non mi batterà mai Andiamo Cameraman, non mi batterai mai Oh no, devo batterlo Oh my god Siamo allo stesso livello Aggiornamento Wow, questo è epico Andiamo È il mio turno Andiamo Facile Wow Ok, siamo gli ultimi Andiamo Non mi batterà mai Vedrete Ah, facile Miglioramento Wow OMG Sembri fantastico Ti amo Ma per ottenere il prossimo miglioramento Batti il tuo avversario Figlia TV Sconfiggili Ok Non li hai battuti tutti Quindi niente miglioramento Ora Cameraman contro TV Man Titano Andate Hai vinto Miglioramento per te È davvero eccezionale Ora tu TV Man Contro un gruppo di Toilette Skibi Wow Li hai battuti Incredibile Wow E l'ultimo Tempo di upgrade OMG Così figo Rompete questo muro Oh no Sono il primo Sento l'upgrade Sono il prossimo Solo uno E nessun miglioramento Sono il prossimo E sento l'upgrade Wow Sembra un titano Sono l'ultimo Siamo solo in tre E nessun upgrade Per ottenere il prossimo miglioramento Battimi Vai Daruma Sangha Devo vincere Daro I I I I I I NO Because of the NO Because of the 1 Sì posso premere sono così vicino ma voglio che tv man muoia è morto sto premendo ah ho vinto sono donna della tv camera e oratore sono sopravvissuti quindi miglioramento ora valuta i loro jumpscare senza morire per ottenere l'upgrade forza questa toilette non ci farà uno jumpscare quello che hanno perso o m g tu cosa tu iletta con la smorfia scarso jumpscare principiante uomo nella toilette sono sopravvissuto ma molti altri sono rimasti tu o m g ora lui ai o m g conosco questi tre o no il migliore ora toilette magica nonno adesso ai questo ragno ok bene avanti il prossimo questo ora questa ora l'angelo rimasti solo un paio dai cosa ora il ladro toilette schibi ai toilette gemelle la mia testa l'ultimo sono sopravvissuto cazzo miglioramento wow non è possibile o m g tv man sembri il migliore sei il mio figlio preferito non può andare così cosa è successo mia madre cosa sta facendo mia sorella bru datemi regali ho una famiglia parlante per te regalo brutto è troppo devo fermarla cosa si è diviso trova qual è reale per ottenere l'upgrade bene zombie bene perché sei ancora donna viso cucito donna così brava senza testa sospetto ah toilette schibi stai per essere eliminata anche tu sento l'upgrade o m g ora bacio il tuo crollo bene ora tu sospetto il prossimo bene il prossimo aspetta cosa è sospetto il prossimo allarme normale due rimasti bene l'ultimo questo schibi di ora mostrami il tuo appuntamento da sogno bene il prossimo dolce tu ok tu o m g tu bene l'ultimo non era la donna della tv miglioramento cosa è questo miglioramento sbagliato ora canta una canzone wow bellissimo bello ma questo è sospetto muori lo sapevo e tu scarso molto male tre rimasti mostravi le tue unghie cos'è questa bru bene il prossimo omg brutto voi due uscite che tu tu si tu